Pintadera 2, questo è il nome dell'operazione antidroga condotta stamattina dagli agenti della squadra mobile dell'acquistura di Cagliari che ha portato a smantellare un'organizzazione dedita al traffico allo spazio di sostanze stupefacenti. 12 persone arrestate nel corso del blitz condotto da un centinaio di agenti in via Serucci, nel rione di Smirionis. Nel mirino degli inquirenti la palazzina numero 3, trasformata dal sodalizio criminale, in un fortino con vedete in grado di avvertire dalla presenza delle forze dell'ordine. Secondo quanto accertato alle indagini è stato possibile ricostruire un traffico di cocaina, eroina e speedball, una sostanza mista di coca ed eroina. La squadra mobile diretta da Roberto Pitito attraverso una serie di attività tecniche ha ricostruito le modalità di azione dell'organizzazione. Tra gli arrestati Alessandro Busi, 39 anni, Francesco De Giovanni, 41, Fabiana Mura, 32 anni, tutti di Cagliari che avevano un ruolo principale all'interno del sodalizio. L'abitazione centrale dello spaccio era di proprietà di Fabiana Mura. A De Giovanni, se ufficialmente disoccupato, sono stati sequestrati 10.000 euro. Durante le indagini gli agenti hanno sequestrato 196 grammi di eroina, 70 di cocaina e 34 di speedball. Nel corso della conferenza stampa il questore di Cagliari, Pierluigi D'Angelo, sottolineato come lo spaccio di droga, rappresenti per il capologo sardo un'emergenza, ma anche negli ultimi anni l'azione della Polizia di Stato ha portato a compiere 13 operazioni che hanno condotto a un centinaio di arresti.